Anche se non se lo ricorda, lei è già stata all'Hot Corner per Spin Time a Venezia. Ah, vedi? Eh, vedi che a volte non si ricordano le cose più belle. E avevamo fatto invece una bella intervista due anni fa per il libro, per 2119, in cui tu avevi detto una cosa, che tra i riferimenti cinematografici c'erano I Banditi del Tempo e Brasil, due film di... I Banditi del Tempo non l'ho detto. Sì, sì. No, no. Sì, sì. No, sicuramente no. Comunque due film di chi? Terry Gilliam. Terry Gilliam è Allora Fest, vedi che tutto torna. Eh, l'ho scoperto adesso. Cioè, devi portargli 2119. Ho fatto un urlo, sì, di gioia. Devi allungarglielo lì, perché mi ricordo che hai detto Brasil, I Banditi del Tempo e Avatar anche, avevi detto. Tu insisti con questo Banditi del Tempo che non ho visto, quindi non può essere che l'ho detto. Vedi, però, vabbè, senti. Però vedrò. Però adesso sei qui due anni dopo da quell'intervista lì per Anonymous, che è un nuovo libro, che è anche un po' cinematografico, però. Perché alla fine c'è questa eroina. Io appena l'ho vista, ci ho visto subito. No, sicuramente si potrebbe fare un bellissimo film. Eh, chi è lei? Chi metteresti lei, se dovessi fare il casting? Che mi ci metterei io innanzitutto? Ah, no, tu regista, dai. Perché io ci metterai Kate Winslet, Kate Winslet, devi mettere là. Vabbè, sì, Kate Winslet, è fichissia. Tu dici un cast internazionale. Serie Netflix, cioè una cosa. No, questo non è una serie. Quello prima poteva essere, beh, più lungo e più complicato, c'era un sacco di personaggi e era più da serie che da film. Questo ci si può fare, è un bellissimo film. E ti piacerebbe? Ma certo. Ma anche 2.119 però. Quello più serie, più una serie, perché no, 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 è un film solo, non ci sta. Ci ho provato, eh, ma non c'entra. Da dove prende l'ispirazione poi quando ti metti a scrivere? E che ne so. A parte le tematiche che ovviamente ci sono, no? Perché poi… Sì, infatti, le tematiche, poi, le tematiche, poi, appunto, cioè un primo interesse, appunto, l'intelligenza artificiale, poi naturalmente… Contro, poi un altro tipo. Insomma, più studio, faccio ricerche, allora poi mi affascino di più. Io non ho nulla contro l'estinzione dell'essere umano, quindi no, non sono pessimista. Sei realista, sei candidamente realista. Ma no, neanche, sono romantica e… No, realista assolutamente no. Però questo sta accadendo, va bene. E tu sei preoccupata però, perché comunque c'è una… Mi dispiace per i bambini. Mi dispiace per i bambini. Eh certo, perché poi loro ereditano qualcosa che… E per le altre specie. Però magari si salvano. Ma questa versione di scrittrice invece come la concili con tutto quello che hai fatto prima? Tu hai sempre scritto ovviamente. Però è diverso, c'è anche una solitudine rispetto a poi fare una cosa… Beh, oddio, quando scrivi stai sempre un po'… No, vabbè, è vero, quando si scrive magari per la televisione, una volta… Eh, dopo arrivati al momento. Erano anche cose di gruppo, ma adesso anche la televisione è tutto solitario, sono tutte le cose che si fanno, ognuno da soli, è una cosa orrenda. Invece quando si scrive un romanzo bisogna stare proprio da soli, oppure in silenzio, possibilmente. Io vivo in una casa rumorosissima, non è proprio un prego con tre vicini di sopra, ma… Ma ci sono dei momenti in cui ti penti, dici perché ho iniziato un nuovo libro e dai la testa… Ci sono dei momenti in cui ti pare di non trovare le soluzioni giuste, pensi che stai scrivendo una cosa senza… Che non troverà la riuscita. Che non parla di niente, si soffre molto. Poi ci sono volte in cui invece ti hai un'idea… Tutto durante la parte. Sì, è tutto un app… Insomma, comunque è faticoso indubbiamente scrivere. Senti, invece in quell'intervista che tu non ricordi, che fu anche bella però intervista… Ma ce l'ho, non me la ricordo, perché dai a Venezia sarei fanno 350… Ma certo, parliamo anche di Troppo Sole e diceva che fine ha fatto Troppo Sole? Che fine ha fatto Troppo Sole? Io poi sono andato a cercarlo. Troppo Sole ce l'ha, Mediaset, non so perché, perché comunque io per esempio ero produttrice, era distribuito dalla Chired, ma era prodotto da Formenton, che poi l'ha venduto. Insomma, Morale, io l'ho anche coprodotto, nel senso che tutti erano tutti coproduttori, ma è andato a Mediaset, ma a me non hanno chiesto nulla, quindi non so, e lo tengono là e tra l'altro… Esatto, perché non c'è… Ogni tanto lo mandano in OE, esatto, mandatelo, liberatelo. C'è tanta gente che lo vuole vedere. Oltretutto esiste solo il QHS, tutto rovinato. È un peccato perché è un gran bel film, oltretutto di Giuseppe Bertolucci, un grande regista. Liberatelo, siate bravi. Dai, liberatelo. Non è neanche un film contro Mediaset. Per chiudere, Sabina, che tipo di spettatrice sei oggi invece? Al cinema dove? Da, al cinema o dove? No, sia al cinema che quando la sera ti metti lì e stacchi. Qualsiasi cosa. Non è stacchi. Non è bella. Non è bella. Quando vuoi, sì, è vero perché è vero. Stacchi la spina. Colpito, colpito. Cioè, speriamo che la cultura non serva a staccare la spina, speriamo che serva ad attaccarla, ma a volte, se anch'io stacco la spina, mi guardo una stagione al giorno di cose sempre più brutte. Io ho cominciato a guardare serie, tra l'altro, nel 2000, quindi prima che le guardassero tutti quanti. C'è il tempo di Lost proprio, ti guardavi? No, prima, ai tempi di 24, ai tempi di Soprano. Cioè, comunque, ho capito, sì, era prima. Ma comunque, sono le cose, diciamo, i prodotti stereotipati delle piattaforme mi danno, cominciano a darmi proprio la nausea, non ce la fa, cioè, li trovo proprio insopportabili. E quindi ho tolto gli abbonamenti. Guardo due, tre film al giorno, comunque. Ah, ma tipo l'ultima fulgurazione. Fulgurazione che hai avuto? Fulgurazione, aiutami, perché ne vedo troppi. No, no, si vedono dei bei film. Ma vado anche al cinema? L'ultima cosa che hai visto? Adesso mi viene in mente l'ora d'aria, non è l'ultima cosa che ho visto, però era un gran bel film. Bellissimo. L'ultima cosa che ho visto, ne ho visti un po', non bellissimi, sinceramente, ultimamente. proprio belli no, di bello bello, ah no, The Whale, molto bello. Ah, beh, Brunfrey, è grandissimo. Sì. Aronofsky. Aronofsky è grandissimo. Che vuoi dire Aronofsky? No, no. Ne diciamo. Senti, l'ultima cosa, a questo punto bisogna dargli 2.119 a Terry Gilliam, però. Ce la consegnare. Ma io l'anonymous a Terry Gilliam. Ah, l'idea diamo anonymous. Sì, perché là c'è una questione di modellini che lui potrebbe risolvere. Ah, beh, poi lui è grave. Perché se lui fa il modellino del condominio abbiamo, siamo a cavallo. Abbiamo asvoltato. Anche col budget, voglio dire, possiamo affrontarlo. Terry, stiamo venendo a Terry. Sabina Guzzanti, grazie Sabina. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.